Ciao a tutti! In questa storia vi parlerò dei miei piani futuri e dei progetti che ho in mente di realizzare. Dopo anni di intenso studio ed edizione, ho finalmente raggiunto il mio obiettivo di laurearmi in medicina. È stato un percorso impegnativo, ma incredibilmente gratificante, e ora sono una dottoressa a tutti gli effetti. Tuttavia, invece di lanciarmi immediatamente nella mia carriera, ho preso una decisione insolita. Ho deciso di prendermi un anno sabbatico per esplorare una parte del mondo. Questa decisione è nata dalla consapevolezza che, una volta entrata nel mondo del lavoro, il mio tempo libero scarseggerà. Vorrei cogliere l'opportunità di viaggiare e scoprire nuove culture prima di assumermi le responsabilità a lungo termine di una carriera medica. So che questa pausa mi permetterà di ricaricare le batterie, espandere i miei orizzonti e tornare più carica che mai. Ho iniziato a pianificare il mio anno sabbatico con tanta perseveranza. Ho risparmiato denaro lavorando part-time mentre studiavo, assicurandomi di avere le risorse finanziarie necessarie per i miei viaggi. Ho anche fatto ricerche approfondite sulle destinazioni che desidero visitare, creando un itinerario entusiasmante che mi porterà in luoghi che ho sempre sognato di esplorare. L'idea di prendermi un anno sabbatico prima di iniziare la mia carriera medica è stata inizialmente accolta con perplessità da alcuni amici e familiari. In molti mi hanno consigliato di iniziare a lavorare subito per non perdere tempo. Tuttavia, ho sempre saputo che fermarmi è la scelta giusta per me. L'università mi ha dato tanto, ma mi ha anche lasciato poco tempo per me stessa e per le mie passioni. Ho bisogno di una pausa per staccare la spina, esplorare il mondo e ritrovare me stessa. Sono convinta che questa esperienza mi renderà una dottoressa migliore, perché mi permetterà di avere una visione più ampia del mondo e di essere più empatica e comprensiva con i miei pazienti. Inoltre, ho già studiato un piano per risparmiare soldi e guadagnare qualcosina nei luoghi che visiterò. Ho scoperto dell'esistenza di programmi con i quali è possibile lavorare e dare una mano ad alcune famiglie locali, in cambio di vitto e alloggio. La prima tappa del mio viaggio sarà in Cina. Una volta arrivata, mi recherò in una piccola città nella provincia di Zhejiang, ospitata dalla famiglia Suzuki, che gestisce un ristorante che offre una cucina tipica cinese. Fortunatamente, questa famiglia parla anche inglese, dunque la comunicazione non sarà un problema. Ho conosciuto questa famiglia attraverso i social media. Hanno spiegato che il loro ristorante si sta espandendo rapidamente e sono in cerca di personale aggiuntivo. Dunque, mi hanno invitata a trascorrere del tempo con loro, durante il mio soggiorno in Cina. Hanno anche una figlia che è mia coetanea. Avrò quindi l'occasione per uscire con la sua comitiva nel tempo libero. Durante il mio soggiorno con questa famiglia avrò l'opportunità di imparare molto sulla cucina tradizionale cinese. Mi insegneranno i segreti della selezione degli ingredienti freschi, della lavorazione e della presentazione dei piatti, così come la gestione quotidiana del ristorante. In particolare, la signora Suzuki mi insegnerà a preparare il jiaozi, ravioli cinesi ripieni di carne di maiale e verdure, ad impastare la sfoglia e a confezionare i ravioli con delicatezza. Oltre alla cucina, aiuterò anche nella gestione del ristorante, occupandomi delle prenotazioni dei clienti, della pulizia e della manutenzione del locale. Sarà un'esperienza incredibilmente gratificante, che mi permetterà di immergermi completamente nella cultura culinaria cinese e di contribuire al successo dell'attività familiare. Credo fortemente che vivere la vita di tutti i giorni sia il modo migliore per immergersi nella cultura di una nazione. Dopo aver trascorso tre mesi con la meravigliosa famiglia Suzuki, nella provincia di Zhejiang, mi dirigerò verso la mia prossima entusiasmante destinazione, il Giappone. Da sempre ho sognato di visitare il Giappone e non vedo l'ora di immergermi nella sua affascinante cultura, tradizione e naturalmente nella sua cucina deliziosa. Ho sentito parlare di un'opportunità di volontariato unica in una piccola città vicino Tokyo chiamata Nasu. Una gentile signora anziana, la signora Tanaka, sta cercando aiuto per le faccende domestiche e in cambio offrirà vitto e alloggio. Ho intenzione di cogliere al volo questa occasione, entusiasta di vivere la vita locale e di offrire il mio aiuto. La sua casa, sebbene modesta, sarà piena di calore e ospitalità, sarà un'esperienza affascinante e dura allo stesso tempo. Potrei trovarmi di fronte a sfide legate alla comunicazione, data la barriera linguistica. Questo potrebbe rendere difficile comprendere appieno le istruzioni e le aspettative della signora Tanaka e potrebbe richiedere un maggiore sforzo per superare questa difficoltà e stabilire una connessione significativa. Motivo per cui sto già studiando giapponese nel mio tempo libero. Ogni giorno mi sveglierò ed inizierò la mia routine aiutando la signora Tanaka con entusiasmo. Spazzerò il cortile, farò la spesa al mercato locale, scoprirò i segreti dei piatti tradizionali giapponesi. La signora Tanaka mi insegnerà l'arte della preparazione del sushi, mi mostrerà come cucinare il riso perfetto e mi introdurrà al mondo dei deliziosi dolcetti wagashi. In cambio del mio aiuto, la signora Tanaka mi farà scoprire la bellezza della vita locale. Mi porterà nei mercati locali dove potrò scegliere ingredienti freschi per creare insieme piatti deliziosi. Mi insegnerà le tradizioni e i rituali della cerimonia del tè giapponese e insieme esploreremo i tranquilli giardini zen, ammirando la natura e trovando pace e serenità. Spero che il tempo che trascorrerò con la signora Tanaka sarà gratificante. Non solo avrò l'opportunità di immergermi completamente nella cultura giapponese, ma formerò anche un legame profondo con una donna meravigliosa che so già diventerà come una nonna per me. Dopo l'esperienza con la signora Tanaka in Giappone, sarò pronta per la mia prossima avventura, l'Australia. L'Australia mi affascina con la sua natura selvaggia e le sue spiagge spettacolari. Tuttavia, anziché concentrarmi solo sul turismo, ho deciso di immergermi ancora di più nella vita locale attraverso un'opportunità di lavoro unica. Ho scoperto che una famiglia di agricoltori nella regione di Riverland, in Australia meridionale, sta cercando aiuto stagionale nei loro campi di uva da tavola. Sono intrigata dalla prospettiva di sperimentare la vita rurale australiana e di imparare sul campo, quindi ho deciso di cogliere l'opportunità. Inoltre, voglio provare a combattere la mia fobia per gli insetti ed i ragni. Sono certa che i primi giorni non saranno semplici. Quando arriverò nella fattoria della famiglia Smith, sarò accolta con calore e ospitalità. La famiglia mi mostrerà i loro campi rigogliosi e mi spiegherà le varie fasi della coltivazione dell'uva da tavola. Sarò entusiasta di iniziare e mi metterò subito al lavoro. Ogni mattina mi sveglierò presto per unirmi alla famiglia nell'attività agricola. Lavoreremo insieme sotto il sole cocente, raccogliendo e potando le viti, curando i frutti e preparandoli per la vendita. Sarà un lavoro duro ma gratificante e mi sentirò piena di energia mentre imparerò le tecniche e i segreti della coltivazione dell'uva. Durante le pause, la famiglia mi coinvolgerà nella loro vita quotidiana. Condivideremo pasti cucinati con prodotti freschi della fattoria, condivideremo storie e risate intorno al fuoco la sera e mi faranno sentire davvero parte della loro famiglia. In cambio del mio lavoro nei campi, la famiglia mi offrirà vitto e alloggio nella loro accogliente casa accanto alla fattoria. Non vedo l'ora di sperimentare la vita rurale australiana in prima persona. Mentre lavorerò nei campi di uva da tavola, imparerò non solo sul processo di coltivazione, ma anche sulla resilienza e sulla determinazione necessaria per gestire una piccola impresa agricola. Sarà un'esperienza che mi arricchirà profondamente e che porterò con me per il resto della mia vita. Al termine del mio anno sabbatico tornerò in Italia e inizierò il mio percorso di specializzazione in medicina. Non so ancora quale specializzazione sceglierò, ma sono certa che troverò la mia strada. Sono fiduciosa che le esperienze che vivrò durante il mio viaggio mi aiuteranno a fare la scelta giusta. Sono pronta ad affrontare il futuro con entusiasmo e determinazione. So che il cammino sarà lungo ed impegnativo, ma sono fiduciosa che ce la farò. Il mio sogno è quello di diventare una dottoressa capace di fare la differenza nella vita delle persone. E so che, con impegno e dedizione, potrò raggiungere questo obiettivo. Prima però ci sarà un'esperienza indimenticabile da vivere. Grazie.